Saburau Duro è il cammino per chi resta da un lato, per chi guarda attento il nostro mondo malato, dai nostri dubbi e dalle nostre incertezze, dai nostri egoismi e dalle poche carezze. Il tempo passa e il tuo corpo si curva come un arbusto piegato dal vento, distende i suoi rami senza un lamento. Con tutto te stesso provi a guardare quanto rimane da camminare, chi e che cosa bisogna ancora portare. Gli occhi che prima volgevano fissi verso la meta di mille stazioni, sempre più spesso si portano indietro per rivedere quelle emozioni. Ma non ti distrarre. Non ti è concesso. Porgi la mano, il tuo braccio, te stesso. Ora è il momento, ora è dovuto. C'è sempre qualcuno che ha bisogno di aiuto. 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 Grazie a tutti.